è un filo chiuso mongolo ti entra più gente con il filo chiuso io lo so bene ma dai la vado a ritirarla levati al cazzo levati alla misa allora ammetti che hai fatto ti entra più gente con il filo chiuso io lo so bene con tutti quelli che entravano in live ma dai io lo so bene io lo so bene io lo so bene io lo so bene io lo so bene